E' stata presentata in una conferenza stampa la mostra Gino Marotta è in blu a cura di Laura Cherubini e Giacinto di Pietrantonio, realizzata da Germana Galli e Antonella Muzzi. L'inaugurazione è prevista il 6 settembre alle 18. L'esposizione, sostenuta dal Consiglio regionale d'Abruzzo, dalla Fondazione Carispac, da Ancel Aquila e da Farma Natura, con il patrocinio del Comune dell'Aquila, resterà aperta fino al 21 settembre nella Sala Centrale di Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila, sede del Consiglio regionale d'Abruzzo in via Iacobucci. La mostra propone in particolare un corpus di opere iconiche in metacrilato blu, alberi e animali che costituiscono un ideale Eden, un giardino artificiale dove lo spettatore si trova immerso e portato a riflettere sul mondo della natura e dell'industria. che hanno avuto un ruolo dominante nella riflessione critica di Gino Marotta, uno degli artisti contemporanei italiani più significativi. Perché la scelta del metacrilico? Perché in quegli anni, parliamo degli anni 60, c'era proprio una tendenza dell'arte, dell'avanguardia, a cercare materiali nuovi, da introdurre nel mondo dell'arte, sia materiali della natura e sia materiali industriali. Marotta sceglie questo materiale perché collabora con la Montedison, che è l'industria chimica tra i più avanzati italiani e anche europei. E quindi è un materiale moderno che però lui declina in una figurazione antica. Qual è il messaggio che Gino Marotta ha voluto dare con queste opere? Ma io credo che in fondo poi ci volesse dire che l'Eden non c'è mai stato, se non nella mente dell'uomo. L'Eden è qualcosa che vive nella mente dell'uomo in qualche modo. Per cui usa questo nuovo materiale, il metacrilato, che è un materiale che si basa sulla trasparenza. È un materiale diafano, quindi permette anche... La modernità è un concetto molto importante per Gino Marotta. Lui ci teneva moltissimo. Grazie mille. Grazie a tutti